Senti, lo so che è una cosa che non ha senso, ma io ho già vissuto questa giornata due volte. Tri, io… Oh, no, 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 credimi, lo so che sembra una pazza, ma è quello che mi sta succedendo, te lo giuro su Dio. Ti sembra di rivivere le stesse cose? Ok, ok, mi hai fatto un cupcake per il mio compleanno, giusto? Ora stai per darmelo e stasera mi farete una festa sorpresa. Chi te lo ha detto? È stata Betty? No, 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 nessuno me l'ha detto, è questo il punto, capisci? So cosa sta per succedere prima che accada. Ma… Lori, qualcuno mi ucciderà stanotte.